Grazie a tutti 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 Un occhiale bianco ragazzi Ce ne sono svariati però a me piaceva Questo qui con le lenti Diciamo In questo modo però ce ne sono svariati Quindi potete scegliere Poi andiamo su caschi Un casco antiproiettile Il gioco è fatto ragazzi Veramente questo completo è semplicissimo Andate a salvarlo E avrete diciamo parte del completo Come dicevo questo completo è veramente elementare Però è molto di impatto A me piace tanto come tipo di completo Infatti per il personaggio uomo Uso questo completo Se volete potete anche mettere un gioco antiproiettile Però a me non piace Io non lo metto Però non ci sta a madre Se a questo punto Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo passare il borsone delle rapine Sul completo che abbiamo appena fatto In free mode non ce lo lascia fare ragazzi Quindi andate in un lavoro da titano Selezionate la missione Poi andate ovviamente nella missione E selezionate il completo in cui avete il borsone Adesso andremo a vedere Il procedimento ragazzi è lo stesso Lo stesso di prima Semplicemente che dobbiamo farlo dentro la missione Perché altrimenti i cuori non ce lo lascerà fare Almeno a me non l'ha lasciato fare Quindi non so che dirvi Quindi una volta messo il borsone Magari se ce lo togli e lo rimettiamo Non è un problema Prendiamo un oppressor Spicchiamo il volo Ci lanciamo con il paracaduto E facciamo il solito procedimento di sempre Apriamo il menu del pad Cerchiamo il nostro Andiamo in abiti Cerchiamo il nostro completo Quello che stiamo modificando Quello che stiamo lavorando In questo caso si chiama nuovo E andiamo a schiacciare X Il momento in cui il personaggio si toglierà la borsa Come ho fatto io adesso A questo punto ragazzi Dobbiamo andare a salvare questo completo Non sarà possibile andare a salvare il completo In un negozio di abbigliamento Però è possibile andarlo a salvare in un appartamento In una clubhouse Oppure nel palasso del CEO Quindi una volta fatto ciò Salvate il vostro completo E ve lo ritrovate in free mode Allora andiamo a salvare Preccia Salviamo sul completo che stavamo lavorando E una volta salvato Basterà uscire dalla missione Ragazzi apriamo il telefono E usciamo dalla missione Io adesso esco dalla clubhouse Perché altrimenti mi porta al porto Se esco dalla missione dentro la clubhouse Infatti sto gioco ha dei respawn Un po' alla cazzo di cane Però comunque sia Va bene Usciamo dalla missione E ci troveremo in free mode Con il borsone Alcune volte capita che Appena spawniamo in free mode Dopo qualche secondo lo toglie Però basterà selezionare nuovamente Il completo E lo avremo come già fatto Come ho già detto È un completo veramente elementare Però secondo me è molto di impatto È molto carino Detto questo Un saluto a tutti Al prossimo video Ma che ne salve due mira Wow E lo avremo come già detto E lo avremo come già detto